il mio problema signore io sono surri buongiorno oggi voglio raccontarvi di una storia che va avanti da diversi anni e ha trovato soluzioni l'estate scorsa e volevo portarmi avanti per evitare che escano chissà quali articoli con titoloni impensabili molto io sapevo tutto ovviamente ancora più impensabili e voglio mettermi io qui in prima persona metterci la faccia e raccontare un po come avete detto dal titolo vi racconterò di quelli che sono stati i miei problemi con l'agenzia delle entrate voglio che sia chiaro che questo video lo faccio da parte dei giornali italiani perché ho visto quello che è successo con Stefano ho visto quello che è successo con Ciccio e avendolo vissuto anche sulla mia pelle e ora ve lo racconterò è molto più grave il percepito che un giornale dà con un articolo decisamente sommario e impreciso che non la realtà delle cose ma dobbiamo fare un passo indietro ovviamente tutto il discorso è iniziato probabilmente con Stefano qualche anno fa si parla probabilmente 2018 Stefano e Steppi insomma della sua posizione fiscale e così via io sono stato interpellato non dalla guardia di finanza ma dall'agenzia delle entrate di Padova a gennaio o era gennaio o febbraio del 2020 quindi tra l'altro io ero in tour con i mates ero a Napoli mi ricordo quando mi è arrivata la chiamata di mia mamma che mi ha detto è arrivata questa a casa e c'era l'invito a comparire tanto qui ho i documenti che voglio mettere qui all'interno del video perché una cosa che nessuno ha fatto ho chiesto all'avvocato l'avvocato non è contentissimo che io stia facendo questo video però mi immagino voglio essere molto chiaro e trasparente perché come vedete sono molto sereno e preferisco essere schietto e aperto che non aspettare eventuali articoli e dovermi difendere comunque mi arriva questo invito a comparire io sapevo già che si trattasse della stessa materia diciamo d'argomento di Stefano e quindi lì è iniziata la mia avventura che si è andata a completare nell'estate scorsa per la precisione ad agosto ed è quindi un percorso che ho durato due anni e mezzo con l'agenzia delle entrate di Padova che ringrazio perché sono stati molto professionali e molto diligenti e precisi soprattutto cosa che non posso dire di aver visto nei documenti di altre di altre istituzioni ma ovviamente non farò i nomi ora nell'atto pratico io sono stato chiamato all'agenzia delle entrate Dario prossimo indagato no tra l'altro mi hanno già chiamato anche però tutto in regola si va avanti grazie a Gerbaldo per l'abbonamento per ora tutto in regola è più probabile che mi facciano il culo per la mia totale iniettitudine con i numeri la mia demenza però per ora mi devo devo essere contento ecco per quello che riguarda l'anno del 2017 quindi parliamo di di sei sei anni fa io sei anni fa avevo appena vent'anni appena compiuti ed è un anno in cui avevo guadagnato particolarmente bene ora qui nel documento ce l'ho scritto Dario mi hai dichiarato il mio abbonamento certo sì tecnicamente 307 308 arrotondiamo 1000 euro che sono tanti però nel 2017 308 arrotondiamo 1000 euro che sono tanti però nel 2017 io facevo già lo youtuber da diversi anni per la precisione io sono stato chiamato per gli anni 2015 2016 2017 quindi più o meno da quando ho aperto la mia prima partita iva per regolamentare gli introiti che mi arrivavano dal mio canale youtube i prime li dichiari certo io dichiarò quando praticamente mi arriva la mensalità di twitch che riassume tutto riassume i beats riassume gli abbonamenti regalati riassume tutto quello che è guadagnato nel mese prendo passo al mio commercialista che fa una fattura direttamente a twitch questo ogni mese praticamente spoiler il 2015 e 2016 due anni comunque importanti a livello d'introito ora non mi ricordo di preciso però si parla comunque di più di 100 mila euro ad anno sono stati archiviati quindi l'agenzia delle entrate non interessate a quegli anni invece per il 2017 è anche perché a volte l'agenzia delle entrate se fa un calcolo sui costi dell'indagine e capisce che ci rimette non indaga nemmeno per cifre piccole tra virgolette un altro discorso allora per capire qual è la questione con l'agenzia delle entrate bisogna fare diversi passi indietro perché bisogna andare a quando io avevo 14 15 sponsor ci pensa evox no è strano che mi interessi così tanto il mio lavoro comunque vi spiego praticamente che cazzo ne so arriva mulino bianco mi facciamo un lavoro è venuto il momento di pagare mulino bianco paga evox evox si trattiene la percentuale io faccio fattura ad evox e evox mi paga semplice anni e ho ricevuto il mio primo che ovviamente poi evox deve fatturare a mulino bianco e poi dichiarare tutto il fisico assegno da google per gioco ovviamente perché non era un lavoro all'epoca quando iniziato io con youtube non si poteva neanche guadagnare però ricevetti questo assegno introiti delle carte da l'or federic ha comprato le carte da noi lui ha comprato tutti i box perché lui è un rivenditore per rivendere quindi noi abbiamo fatturato a federic che ci ha pagato e poi chiaramente lui scontina i box ogni volta che li acquistano ma in realtà non è così difficile se sei ok è facile in dollari la difficoltà sta poi nel pagare la mole di tasa che ti arriva perché è tanta roba però questa tutta preoccupata dice da buon genitore quale ha detto andiamo al commercialista infatti siamo subito andati dal commercialista e abbiamo iniziato a spiegare che cos'è che facevo e questo è il dolore è stato complicato è tuttora complicato spiegare cosa facciamo immaginatevi più di dieci anni fa 11 anni fa anzi per la precisione quindi io mi presento al commercialista dei miei genitori e inizio a raccontare un po cosa faccio ma guarda io faccio i video su youtube li carico sul canale accanto al video ci sono degli spazi pubblicitari che gestisce youtube quanto tattiene evox sugli sponsor guarda ragà questo io vorrei anche dirvelo ma non me lo ricordo dico la verità o non me lo ricordo che non so nemmeno se lo posso dire sinceramente anche se me lo ricordassi questa è una spiegazione che mi è stato elaborare nel corso del tempo cioè immaginatevi io a 15 anni che spiegavo commercialista sta roba a 15 anni ci sono degli spazi pubblicitari dove vengono messe delle pubblicità e youtube mi corrisponde una percentuale di queste pubblicità qual è la percentuale il 45 per cento o 55 credo 55 me lo come mi confondo sempre però io prendo il 55 per cento delle pubblicità che youtube vende ai investitori insomma chi beh ragammo volete parlare di surrio di me come fanno gli sponsor a trovare evox allora e poi c'era un'altra domanda che era vabbè allora vabbè vi spiego oggi siete appassionati di lavoro e finanza vabbè comunque evox è un'agenzia quindi ai suoi contatti ai suoi ai suoi contatti da tanto tempo che si è fatta negli anni all'inizio si proponeva i marchi poi marchi fidandosi dei talent che gli offre evox e di come lavorano poi tornano sempre lì o a volte ci sono proprio dei concorsi dove tutte le agenzie partecipano per ottenere quel lavoro che magari del lavoro importante e che magari copre più talent 5 10 20 talent insieme non lo so magari esce il nuovo diablo ecco c'è un concorso le varie agenzie partecipano e se vince evox diablo fa un'operazione di marketing per vendere diablo 3 su quei 10 talent questo è quanto all'incirca poi sono molti più processi complicati ma quindi quando un'azienda sa che deve vendere un nuovo titolo sa che se gli piace quel tipo di comunicazione magari piace il mio tipo di comunicazione più cazzona un po più volgarotta più diretta se gli piace per esempio anime factory quando venuta da me per slam dunk è venuta da me perché gli piaceva questo modo ruvido ma diretto di recensire i prodotti sono venuti da me come da tanti altri nintendo invece quando ha fatto l'operazione di zelda a francoforte nonostante nintendo non mi abbia mai dato un problema mi ha fatto sempre dire tutto liberamente senza problemi continuano a mandarmi copie omaggio codici gadget non gliene frega assolutamente un caso sono molto liberi da questo punto di vista nintendo europa che non è un'altra cosa rispetto a nintendo italia non mi ha chiamato perché ha preferito chi comunicava in maniera più pulita per un gioco pulito quale zed è tutto basato su quello quindi quando si lancia un gioco si va da quell'agenzia perché si sa che ha quei talent e gli si affida il lavoro niente di più niente di meno e ovviamente evox si prende una percentuale ma peccato no perché nintendo italia mi ha chiamato per provare zelda in italia perché vabbè ci si lavora da tantissimi anni sarà dieci anni che lavora un nintendo amabilmente e evox per procurarti questo lavoro si trattiene una percentuale per quanto riguarda invece il merce il merchandising cioè felpe carte questa roba qui evox non prende un euro proprio da contratto quindi io mi posso fare il mio merchandising per uno faccio io o controllo io faccio tutto io quindi non si prende niente ma evox serve o no io tutti i lavori ho fatto da quando ho firmato con evox ho fatti grazie a evox le cose mie carte me le sono procurate per conto mio sono molto bravo a procurarmi le cose per conto mio però certe robe non mi andrebbe nemmeno di provarci insomma perché mi annoio terribilmente e e poi c'è da dire che evox ti affida anche degli assistenti che mi salvano molte volte il culo serena emanuele sulle persone che mi braccano e senza di loro sarei a giro si vuole mettere le proprie pubblicità sul sito di youtube youtube anche lo sponsor della regione toscana mettere di qua di là e questo è un aspetto importante perché ci arriveremo dopo e io che creo i contenuti che vanno su youtube percepisco sicura mio una percentuale su questi introiti quindi vado al commercialista gli spiego questa roba qui va avanti un pochino e torna da me dopo più o meno una settimana 10 giorni mi dice guarda salvatore secondo me tu puoi aprire una partita iva come non mi ricordo se era precisamente produzione cinematografica o qualcosa del genere e ovviamente cioè 15 anni non ne sapevo niente mi fido ciecamente del commercialista e quindi abbiamo questa partita iva come se non ricordo male produzione cinematografica in questo momento storico i miei soldi che youtube mi doveva mi arrivavano dall'america o del canada addirittura e questo è importante 15 anni non può aprire partita iva credo che sia una cazzata perché se ti firmano i genitori puoi se non erro ma non vorrei dire una cazzata tante perché arrivando dall'estero l'iva non è dovuta cos'è l'iva l'iva è l'imposta sul valore aggiunto ed è una tassa sul sulle operazioni che si svolgono tra le aziende no sulle cessioni di beni di servizi così via ad esempio se tu vieni da me e mi dici voglio comprare questo guanto io ti dico ok costa 10 euro più iva l'iva a fine mese tu mi paghi 10 euro più iva quindi 12 euro e 20 centesimi e io a fine mese dovrò fare la mia dichiarazione iva per quel mese lì e dovevo darlo che spieghi tutto questo stato quindi è un'imposta è una tassa però se i soldi arrivano dall'estero l'iva non è dovuta 0 per cento ci sono tutta una serie di leggi quindi si va dall'europa invece hai la l'iva comunitaria invece se arriva dall'italia c'è confermo tutto e l'iva e basta insomma tutta una serie di contesti diversi però con il fatto che arrivavano dall'estero extra unione europea l'iva non era dovuta e questa è una cosa importante perché tutti i casini che vedete negli articoli sono accreditabili all'iva va bene comunque il mio percorso su youtube prosegue inizio a macinare iscritti a creare contenuti sempre più interessanti e quindi attivo l'attenzione di più pubblico iniziare a collaborare con altre persone conoscere altre persone era certa faccio una scelta faccio una scelta che è quella di smettere di collaborare con il network non è che youtube all'epoca ti pagava direttamente come era successo a me quando avevo 15 anni che mi fatto l'assegno soprattutto se facevi gaming avevi bisogno di un network quindi di una azienda che faceva da tramite tra youtube e te e qua dipende io non l'ho mai avuto non facevo gaming però io sono riuscito sempre di no si poteva dire di no perché erano come dei manager fondamentalmente però ok e ti cedeva per l'appunto queste royalties all'inizio io ero con quella americano canadese penso fosse canadese poi faccio una scelta e una scelta che mi ha servita tanto per crescere cioè sono passato ad un network all'inizio europeo e poi italiano cosicché passando per queste nuove persone di questi nuovi network mi hai fatto una consulenza e mi hai detto guarda i tuoi contenuti su youtube possono essere definiti come opera artistica e finché finché me lo diceva un po' ragazzo un po' sarà stato l'ego non lo so però mi tornava che perlomeno ci fosse un elemento di creatività un elemento di opera d'ingegno ma infatti guadagnavi 400 euro al mese a detta tua non è che a detta mia guadagnavo 400 euro al mese questi commenti capziosi veramente a voi in quello che faccio quindi arrivano commercialisti di qua e di là che ci dicono poi 400 dove di preciso dove l'hai tirata fuori sta cifra non mi ricordo avverti detto 400 molto bene si può usare la cessione del diritto d'autore la cessione del diritto d'autore è uno strumento per dire che ti conveniva il network non sarebbe cambiato assolutamente nulla anzi avrei guadagnato meno perché si succiavano la percentuale per niente poi ho fatto dei colloqui con capi di management o capi di network diciamo che non avevano proprio capito benissimo cosa stessi facendo su youtube scale italiano che si usa principalmente per i libri in cui tu sei ideatore di un'opera da in cessione quest'opera in questo caso mettiamo alla casa editrice e la casa editrice lo commercializza e ti dà una percentuale dei guadagni e a me questo ragionamento tornava della serie sì diciamo che la mia casa editrice in questo caso è youtube o il network io sto dando il contenuto per come me la raccontavano funzionava tutta la grande ovviamente la cessione del diritto d'autore ha alcuni vantaggi nel senso che risparmi sulle tasse soprattutto se hai meno di 30 anni perché ti dà un vantaggio a livello di IRPEF quindi delle tasse che vai a pagare a fine anno per parlarci chiaro ma soprattutto ed è una cosa importante questa perché torniamo sempre lì sulla cessione del diritto d'autore non è dovuta l'IVA sono il suri dell'editing devo farmi uno schemino perché secondo me riguardando il video i problemi sono iniziati quando ho deciso di affidarmi ad un'azienda italiana non per l'azienda italiana in sé ma perché non essendo regolamentato il modello di business non può funzionare vi spiego perché è uno schemino molto rudimentale scusatemi questo è youtube che è in America negli Stati Uniti io faccio il mio video e youtube paga il network per me il network italiano mettiamo caso un mese è andato bene sono 10.000 dollari quindi l'azienda italiana il network italiano a cui mi sono affidato ha ricevuto circa 9.000 euro perché c'è anche il cambio valuta il network viene da me e mi dice ok suri devi farmi la fattura per i soldi di questo mese allora arrivo io che sono questo bellissimo biscottino e dico ok ti faccio la fattura e la fattura sono i 9.000 euro e in più ci devo aggiungere l'IVA perché sto trattando con un'azienda italiana quindi la mia fattura avrà un totale di 10.980 euro fin qua torna tutto però mettiamoci nei panni del network italiano io sono l'azienda con base in Italia che prende soldi dall'estero senza IVA io prendo solamente i miei 9.000 euro arriva suri che mi dice ok ti devo fare la fattura ma ti devo anche aggiungere l'IVA quindi 9.000 meno 10.980 l'azienda italiana si ritrova in rosso di quasi 2.000 euro è un modello che non funziona moltiplicatela per tanti youtuber e l'azienda italiana ha una vita media di neanche un mese sì che l'azienda italiana vada a un loro consulente vada a un fiscalista e dice come facciamo a funzionare questo modello di business ed ecco lì il diritto d'autore viene proposta questa roba qui del diritto d'autore e dico vabbè vabbè per ora fila tutto vabbè so che conosco anche un po' le dinamiche magari insomma funziona si risparmia anche un po' a livello tecnico per me funziona abbiamo fatto ovviamente le dovute consulenze con i commercialisti abbiamo chiesto informazioni io premetto lo dico prima di finire il video che sono estremamente non abbraccio il diritto d'autore io non ho mai avuto il diritto d'autore ma abbraccio totalmente quello che dice Surry lo dico tranquillamente nessuno ci diceva niente in contrario ho detto va bene allora facciamo così nel mio caso la vega dove è arrivata perché io nel 2017 ho deciso di chiudere la mia partita IVA che avevo aperto e di aprire invece in una partita IVA un SRL perché bisogna fare una distinzione anche tra quali sono gli introiti di un canale YouTube perché un conto sono le pubblicità che compaiono attorno al video un conto è la pubblicità che io posso mettere all'interno del video quindi se io metto qua dentro in questa clip il guanto e dico questo è un posizionamento di prodotto a pagamento allora qui siamo ministri le tasse non le paghiamo mai invece di me mare ascolta che magari ti può servire sto svolgendo un servizio di product placement per cui metterò la fattura all'azienda del guanto e l'azienda del guanto mi pagherà con l'IVA aggiunta il mio servizio di testimonialo o comunque di sponsorizzazione e questa è una cosa che va fatturata con un'azienda con una partita IVA con una ditta individuale insomma con quello che avete nel 2017 io ho chiuso la mia partita IVA ho aperto un SRL in cui per l'appunto vendevo questi servizi pubblicitari e parallelamente avevo la mia posizione fisica personale in quanto persona privata che percepiva un compenso sulle proprie opere dell'ingegno ora posso piacere non posso non piacere però all'epoca contenuti di YouTube li interpretavamo così come una produzione artistica per cui un editore in questo caso il network YouTube ci corrispondeva delle percentuali e come dicevo prima è tipo il 55% da cui poi anche il network si tiene una piccola percentuale insomma spero di essere il più chiaro possibile poi riguardando il video capirò quindi quando negli articoli di giornale ora su di me ancora non ce ne sono stati magari dopo questo video ce ne saranno però a me interessa essere chiaro con chi mi segue in primis e voglio che ci sia la mia versione ma chi meno tasse ce ne va lei con il diritto all'autore messa nei documenti online è disponibile perché chi vuole credere al giornale che fa il titolone è libero di farlo però voglio dare anche la mia alternativa alla storia e perché dico questo? perché negli articoli di giornale come è successo per Stefano ora non conosco nell'atto pratico la situazione di Ciccio però posso immaginare ipotizzare che sia similare non è stato evaso nulla qui non c'è stata evasione è stato tutto dichiarato è stato tutto dichiarato con questo istituto del diritto d'autore e due anni e mezzo fa perché non l'ha mai fatto allora? perché il mio commercialista non me l'ha mai suggerito ma ha fatto prendere una strada più classica cioè un SRL normale l'agenzia delle entrate che mi ha detto in maniera molto tra l'altro gentile e precisa ripeto mi sono trovato benissimo con l'agenzia delle entrate di Padova non voglio fare i nomi così però sono stati talmente bravi che nel documento che mi è arrivato che io poi ho fatto l'adesione oh Giorgio ha rotto il cazzo e che ho già dovuto pagare dei soldi ora vi dico quanto ho pagato l'anno scorso all'agenzia delle entrate è chiaro che non è stato evaso nulla non è che io arrivo prendo dei soldi da internet e dico aspetta questi li metto sotto il materasso non puoi ah ha messo proprio la ok vi voglio leggere alcuni segmenti di questo documento in primis vi metto quella che è la dichiarazione cioè il fatto che i soldi sono stati dichiarati sono stati dichiarati in alcuni quadri mio padre mette tutto nero su bianco l'agenzia delle entrate ha detto no secondo noi no secondo noi al posto di questo quadro qui va messo in questo quadro qui quindi non è una questione di dire ah i soldi ve la faccio molto più semplice ragazzi per chi non sta seguendo bene perché ci sta praticamente lui ha abbracciato il diritto d'autore per avere delle agevolezioni fiscali perché ha inquadrato i suoi video nella sfera del diritto d'autore come le canzoni ragazzi cioè se io faccio perdere l'amore sono Massimo Ranieri faccio perdere l'amore io abbraccio il diritto d'autore e pago le tasse su quella canzone su quello che mi viene su quello che guadagno da quella canzone passaggi radio dischi Spotify quello che è però pago meno tasse perché sono agevolato in quattro prodotti artistico il commercialista di Stepney Surry e probabilmente anche quello di Ciccio gli ha suggerito di abbracciare il diritto d'autore perché i video sono considerabili come canzoni cioè se io prendo le visualizzazioni da un video che ti hai prodotto nel 2009 ma lo guardi nel 2023 e comunque mi fai guadagnare è diritto d'autore per la finanza questo non torna perché la finanza è abituata a un metodo di lavoro classico dove il diritto d'autore funziona solamente per i prodotti artistici classici considerati in Italia quindi i prodotti che produci i contenuti che produci per il web non vengono proprio considerati diritto d'autore e quindi Surry ha dovuto dare l'ammanco che invece si era tenuto con l'agevolazione fiscale ok? quindi quello che si può sperare per chi produce contenuti sul web è che a un certo punto il governo italiano decida di dire ok questo documentario su YouTube è al pari di un prodotto artistico guardabile al cinema mettiamoci il diritto d'autore integriamo i contenuti del web dentro il diritto d'autore questo è un po' il principio non li abbiamo dichiarati i soldi sono stati dichiarati da me dal mio team fiscale è una questione di come tra l'altro nel documento l'agenzia delle entrate di Padova scrive si ritiene utile premettere che in assenza di orientamenti univici in materia si considera come riferimento il punto di vista esposto dall'amministrazione finanziaria in una risposta che si trova su un sito web hanno messo il link al sito web è che non hanno ancora le fonti cioè non hanno ancora le basi come si suol dire la case history per valutare una situazione del genere e le robe che sono successe step misuri probabilmente hc anche io non conosco bene la nostra rete di ciccio però credo che sia molto simile e magari serve alla finanza per poi evolversi è lo stesso motivo per cui hanno chiamato me e non solo me hanno chiamato me ed altri per chiedere chiarimenti su quello che effettivamente facciamo quindi non c'è una legge su questa cosa qui e loro l'hanno interpretato come gestione di spazi pubblicitari con cui io non sono eccessivamente d'accordo perché sempre nel documento mi viene detto che praticamente io dovevo avere la partita di Eva come gestore dei banner pubblicitari quando io nell'atto pratico questi banner pubblicitari non li gestisco non decido io cosa compare come midroll non decido io cosa compare nel banner qua accanto e in più dicono la frase subito prima si prende ora in considerazione la situazione fattuale per individuare il corretto regime da attribuire ai compensi questo per sottolineare che non c'è stata evasione non c'è stato aspetta questi numeri non li mettiamo non c'è stata questa roba qua e per me è importante è importante anche perché io sono no non mi ha sconsigliato il diritto d'autore proprio non me l'ha proposto secondo me non gliene è nemmeno venuto in mente molto chiara e cristallina e sono anche molto aperto su quanto guadagno su quanto spendo e potete immaginare che una persona come me che ieri la prima regola degli evasori è non mostrare mai non flexare mai quello che acquisti Suri diciamo che è proprio un po' al contrario non dovresti comprare macchinoni orologi importanti al polso vestiti cioè devi proprio avere uno stil... oh oh vabbè diciamo che si sa bene dove li spendo i soldi io ahimè ahimè è in prima classe che andava in Giappone a fare un super viaggio di lusso e oggi potrebbe uscire un articolo in cui mi dicono ah no evasore è una roba che è proprio corsa tantissimo e mi urta e mi urta tanto c'è anche un'altra cosa che non ho ben capito cioè il fatto che non essendo io obiettivamente a me fa ridere i suoi di questi banner che vedo in giro io percepisco le mie eroi altissime anche sui contenuti che ho caricato dieci anni fa il video che ho caricato prima di andare dal commercialista undici dodici anni fa quando è stato tuttora mi genera un guadagno anche se io sto qui a non fare nulla perché la gente lo guarda e di conseguenza io ottengo micrampita il mio compenso su quel contenuto potrei stare seguito su questa serie per un mese intero e probabilmente il mio canale genererebbe comunque diverse migliaia di euro verissimo confermo sì è tutto vero perché sul mio canale ci sono 5.000 contenuti che generano visualizzazioni quindi io non sto svolgendo un lavoro grazie Hoppe grazie Vittorio se sto in un mese fermo a fare nulla però ho comunque un introito e anche questa cosa non l'ho ben capita però non è il mio lavoro capirlo ci sono i mezzi di avvocati l'agenzia delle entrate io posso solo chinare il capo e dire boh vabbè partiamo alla parte un attimino più importante che è il motivo per cui poi si finisce a parlare con l'agenzia delle entrate in questo caso quello del 2017 per tutti gli argomenti che ho detto fino ad ora con il fatto che effettivamente io non gestisco le pubblicità io produco il contenuto ma non è che sto vendendo il contenuto a YouTube perché all'inizio mi viene detto allora sei un'agenzia di produzione video ok perché ho una videocamera però io non vendo il mio video a nessuno cioè non è che io ho una fattura in cui YouTube mi paga la produzione di un video e io lo vendo a mille euro è totalmente un metodo diverso potrebbe guadagnare dieci potrebbe guadagnare cento o mille non è mia discrezione in quanto non sono io a gestire i banner pubblicitari e quindi all'inizio mi hanno detto no produzione video dare guadagni più tu o Sabaku credo io però Lupo non è una gara cioè semplicemente abbonati ti generano collaborazioni io collaboro praticamente con tutti è una cosa ma cosa una cosa abbastanza normale dipende da che numeri fai anche video anche se io il video devi fare pure casa cosa vuol dire ma quello l'ho comprata anch'io non lo vendo a nessuno io lo creo e lo metto a disposizione di chi lo vuole guardare in maniera tra l'altro ma non è una flexata è per dice vi sto facendo capire come funziona Citroen ha fatto tutto in regola no Citroen fa così gratuita quindi non è che devi fare un abbonamento per vedermi non è che devi pagarmi il video quindi quell'argomento li cozza secondo me io non sono una agente video chi è che ha detto lo pupa quindi quell'argomento li cozza secondo me non è che devi pagarmi il video quindi quell'argomento li cozza secondo me io non sono un'agenzia di produzione video non sono quella roba là e poi mi hanno detto quindi non sei quello allora sei un gestore di spazi pubblicitari però io sono un gestore di spazi pubblicitari se in questo video metto il placement del guanto se arriva guanto SPA e mi dice ti do 10.000 euro per fare la sponsor di questo guanto grazie na che benvenuto sì in quel caso io sto facendo la testimonial guadagni più tu il re blu il tocco lì è una bella gara Gabe lì è una bella gara sarei curioso perché tutto quello che non guadagno dalle sub che ha lui lo guadagno in collaborazioni che lui non fa perché a parte l'accendini cringe non è che faccia molto quindi è di bene non lo so come ho sempre fatto è un servizio che fatturo all'azienda però se io carico un video in cui domani faccio un video in cui vi parlo della mia ricetta preferita le lasagne io in quel video non sto insendo nessun prodotto sponsorizzato quindi non sto gestendo nessuna pubblicità e i banner che ho attorno non li gestisco io li gestisce youtube e mi dà una parte dei guadagni in quanto io secondo me vince comunque lui non abbonato quindi sarà sicuramente un blur che poverino se gli rovini questa questa sceltezza si ammazza va bene allora vediamo un po' fammi fare un calcolo noi ci mettiamo un po' di evasione no c'è nel senso volevo dire no ho sbagliato c'è che scala le tasse scala le tasse scherzo scherzo nel senso che che scala le tasse dovrei mettere qualche collaborazione così guadagno più io se invece inizia a pagare le tasse lì dove sta lui guadagna per lui creatore del contenuto ti sto dando per l'appunto la cosa su cui tu puoi tu youtube puoi vendere le pubblicità guadagni più tu o gran gran con 3.000 abbonati dove va forse si può comprare la bicicletta spazi pubblicitari grazie che rezzo grazie Gioji grazie annate la campagna pubblicitaria a non so quale pubblicità hai visto qui attorno però io non lo faccio quella roba lì per quello voglio ringraziare l'agenzia delle entrate di Padova perché è stata molto anche precisa nel documento nel dire non c'è una regolamentazione però sempre l'agenzia delle entrate di Padova poi ha inquadrato il tutto come gestore di spazio pubblicitario quindi io per ora la mia partita IVA io sono un gestore di spazi pubblicitari va bene ovviamente in queste situazioni per quanto uno possa andare magari andare in corte tributaria a dire ragazzi guardate ecco perché abbiamo preso queste scelte però diventa una cosa estremamente costosa soprattutto se parli di queste cifre quindi per il 2017 stiamo parlando di 308.000 euro nel momento in cui decidi di contestare quello che vengono a dire è un sistema imperfetto diciamocelo perché se io decido di contestare allora mi apro a sanzioni processi lunghissimi spese legali infinite e quindi uno deve abbassare il capo e dire ci avete ragione voi ed è quello che ho fatto io perché io tutt'oggi sono abbastanza convinto che se non il 100% una buona parte comunque una parte delle cose che faccio io sono in qualche modo indirizzabili al diritto d'autore assolutamente ma io sono pienamente d'accordo l'ho detto prima l'ho anticipato lo ridico per me ha ragione al 100% Surry ma perché dovete ridicare i coglioni non so se ti riferisci a me a BD ovviamente scherzo sia con Grimbaud che con Gianmarco sono amici ma anche se per me se Blur guadagnasse 4 milioni di euro l'anno io sarei solo felice per lui non me ne frega assolutamente un cazzo ma è lo stesso con Grimbaud io mi basta guadagnare quello che mi serve per comprarmi le carte e la casa non mi interessa di niente cioè veramente di nulla quindi se invece diceva a voi non litigate tra di noi cioè ragazzi per noi è tutto un divertimento piaccio per il culo a questa maniera quindi divertitevi anche voi cioè non ci sono sfide anche oggi c'è c'è Marra ha dissato tutta Twitch e io gli ho risposto cioè è normale è il gioco delle parti state tranquilli ragazzi non lo capiranno mai Dario ma io ci tengo a ribadirlo prima o poi capiscono invece secondo me ma qualcuno ha già capito rispetto alla pandemia penso ci sia stata un'evoluzione enorme poi se volete parliamo anche di questo grazie a Piero Talks a Ferruvici però cioè raga secondo voi ma io come faccio a provare invidia di uno e guadagno anche un milione di euro ma che cazzo dove me lo metto un milione di euro al culo a me basta veccolo che mi serve per comprare a casa era il mio sogno fin da quando ho 15 anni avere la casa me la so comprata e via se poi c'ho più sordi per comprare carte io sono solo che contento però sono contento per loro se si sfondano di sordi grazie a Sigur Morse benvenuto se non lo fosse come dice l'agenzia dell'entrata di Padova mi deve essere riconosciuto che non c'è una norma a riguardo cioè non c'è una legge poi se mi invitate a nozze se invitate il matto alle sassate per partecipare a queste stronzate chiaramente mi putto dentro tutte le scarpe mi diverto come un pazzo mi fanno troppo ride dice cos'è questa roba qua che sto facendo però visto che controbattere è davvero costoso diciamo va bene facciamo un'opera no la mia casa definitiva la prossima niente vi le dà un milione la sua e troviamo una via di mezzo per cui io ad agosto 2022 ho firmato l'atto dell'adesione e quindi ho detto ok ci avete ragione voi non andava in quel in quel campo delle dichiarazioni ma in quest'altro campo e anche questo è molto importante perché non c'è stata volontà di evadere i soldi non è che questi soldi non sono stati dichiarati brava ribadisci ribadisci da qui tengo però nel momento in cui viene cambiato questo campo della dichiarazione io quindi di conseguenza devo pagare quelle tasse che avevo risparmiato e uno che mi ha scritto però non è un po' strano associare il diritto dell'autore alla pubblicità chi era depression tony ma secondo me no perché se quella pubblicità è piazzata anche tramite banner su prodotti artistici o contenuti web sì prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel top top domina chi c'è su youtube è Giuppi qui c'è su qui c'è su